Buona domenica amici di Udinews TV, la 22esima giornata del campionato nazionale Under-17 che vede di fronte qui sul campo sportivo di Flaibano, Udinese e Cagliari. Contro la SPAL nel girone di andata, mentre incomincia la partita con il calcio d'inizio battuto dal Cagliari, gli Under-15 affrontano la SPAL, più o meno in concomitanza con l'Udinese. Attenzione, intanto primo brivido. Cagliari quindi nuovamente pericoloso dopo la traversa colpita proprio nei primissimi minuti di gioco, sugli sviluppi di questo calcio d'angolo c'è il gol del Cagliari, il gol di Cusumano che porta in avanti la formazione isolana. Mentre tornando in cronaca, Kudridz di poco a lato, vince il contrasto, Battistella riesce a trovare gli russi. La conclusione è la parata di Ciocci. Sembra però che sarà battere la punizione il giocatore di nazionalità spagnola-angolana. E poi grandissimo gol da fuori area di Battistella che sulla punizione, battuta da Pecos, riesce a ricevere la sfera. Poi Carboni, attenzione alla conclusione, Pizzignacco ci mette i guantoni. A rimorchio, Contini riesce a ricevere la palla, poi a metterla in mezzo di punta. Non arriva lo spunto vincente sugli sviluppi di questo cross. Attenzione, un'altra conclusione dalla distanza di Battistella, Petrucci. E triplice fischio di questa partita che si chiude quindi sul 1-1. Con queste immagini che raccontano l'1-1 dell'Udinese Under-17 contro il Cagliari, amici di Udi News TV, apriamo questa puntata di Orizzonti Bianconeri. Per la squadra di Raffaele Ametrano, un buon pareggio contro la quarta in classifica. È il primo dei tre pareggi che hanno caratterizzato questa domenica, che ha visto impegnate le nostre formazioni bianconere. In un weekend invece in cui la primavera di mister Giacomina ha osservato il primo dei due turni di riposo. Di tutto questo parleremo assieme al nostro Gianluca Lena, che salutiamo. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. E allora, prima di cominciare con la nostra analisi tecnico-tattica di queste partite, sentiamo che cosa ci hanno detto il mister Ametrano e il centrocampista dell'Under-17, Mattias Pecogna, che abbiamo intervistato al termine della partita. È stata una bella partita, i ragazzi l'hanno giocata bene, con coraggio, a viso aperto. Siamo riusciti a reagire allo svantaggio e faccio i complimenti ai ragazzi. Il Cagliari ripartiva, era più pericoloso con le ripartenze. Nel secondo tempo voi invece avete alzato il baricentro, vi è mancato magari quell'ultimo tocco per trovare il Guizzo vincente? Sì, 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 hai visto bene. Abbiamo cercato comunque in tutti i modi di vincerla, per quelle che sono comunque le nostre caratteristiche. Abbiamo in questo momento qualche assenza, avevo soltanto quattro ragazzi disponibili in panchina e a questi livelli magari puoi fare un po' di fatica, soprattutto nella parte finale della partita. Però, come ho detto prima, è stata una bella partita tra due squadre di alta classifica e oggi si è visto in campo. Per noi giocare contro Inter e Milan è un riferimento, pure perché loro fanno un altro sport, nel senso che hanno altri investimenti, altri campionati fanno. Per noi è bello quando ci facciamo partita pari, all'andata abbiamo avuto la bravura e la fortuna di vincerle entrambe, ma non sarà facile ripeterci. Mattias Pecogna, non era facile affrontare una squadra così di qualità come il Cagliari, infatti è stata una partita molto dura, combattuta anche a centrocampo, però avete tenuto bene il campo. Sì, avevamo qualche giocatore che ci mancava, comunque grazie agli altri compagni che sono dovuti intervenire, ce l'abbiamo fatta anche alla grande, direi, nonostante il risultato. Ovviamente si poteva far meglio, potevamo stare più attenti, potevamo realizzare di più, ma ci accontentiamo. Adesso che abbiamo affrontato il Cagliari non siamo riusciti a passare avanti, però comunque mancano altre partite impegnative come Atalanta, Inter e Milan, che sono sempre sopra. Adesso questo è passato, guardiamo a mercoledì dove dovremo recuperare con l'Atalanta. E poi Inter e Milan, che comunque è l'andata, siete riusciti nell'impresa di batterle tutte e due consecutivamente, quindi ci riproverete. Sì, beh, sarà ancora più dura perché ormai ci conoscono, sanno che siamo a questo livello e che possiamo farcela, quindi ancora più dura dell'andata. Gianluca, un Udinese brava a reagire, dopo lo svantaggio, è un Udinese che nel secondo tempo ha cercato anche la vittoria. Beh, è stato importante cercare di vincere questo tipo di partite, anche contro squadre che ti stanno davanti, contro squadre che soprattutto hanno dalla loro una grande forza da parte dell'attacco, perché bisogna anche sottolineare i numeri di quelli che rappresentavano questa partita, cioè un attacco che insieme aveva fatto il gol dell'Udinese, in pratica. Però dall'altra parte abbiamo una squadra che ha ancora difeso uno dei suoi risultati migliori, cioè il terzo posto nella classifica della migliore difesa. Questo naturalmente fa capire come la squadra abbia delle grandi caratteristiche dal punto di vista difensivo, ma pecchi un po' dal lato della capacità, di offendere della capacità poi di segnare anche parecchi gol che permetterebbero magari di vincere anche questo tipo di partite un po' più complicate e magari di stringere il gap con le squadre davanti che al momento sembra difficile invece poi da colmare. Nonostante comunque queste difficoltà un po' in fase offensiva, la squadra ha comunque alzato il baricentro in attacco nel secondo tempo, ha sofferto forse un po' le ripartenze da parte del Cagliari. È un rischio che devi correre quando nel momento in cui decidi di alzare il baricentro, lo fai consapevole anche della forza del tuo avversario, ma è un rischio che accetti anche per metterti alla prova rispetto alla forza proprio dei tuoi avversari. Bisogna anche sottolineare che questa è una squadra che permette ad alcuni ragazzi della primavera come Pecco Shmelo di potersi confrontare anche in un campionato mettendo minuti nelle gambe e soprattutto esperienza per quello che potrà essere invece il prossimo anno in cui si spera possano essere attesi da un campionato nel ruolo di protagonisti invece proprio con la primavera. Vediamo ora i risultati della ventiduesima giornata del campionato Under 17. Vediamo che la SPAL fa un favore all'Udinese battendo per 2-1 il Cesena così fa lo stesso anche il fanalino di coda Cittadella che va a vincere a Bologna con lo stesso risultato. Quindi in ottica play-off è soltanto il Chievo a guadagnare punti sui friulani essendosi aggiudicato il derby scaligero per 3-2. In classifica la vediamo qua in grafica l'Udinese aggancia il Bologna al settimo posto e Rosicchio un punto al Cesena che occupa l'ultimo posto disponibile per la post-season. Alla luce quindi degli altri risultati è un pareggio che vale doppio. Sì, la particolarità di questi campionati sia 17-16-15 è che ormai sono spezzati in tre tronconi tutte le varie categorie perché c'è un blocco di squadre che lotta per il primo posto tendenzialmente sono sempre tre il blocco delle squadre di mezzo in cui vede sempre protagonista le giovanili dell'Udinese con questa speranza con questa ambizione di poter raggiungere il sogno play-off a patto però di riuscire a mettere soprattutto nella classifica parlo dell'Under-17 dei risultati che magari possano essere consecutivi un paio di vittorie che ti permettono magari che ti permetterebbero appunto come si diceva prima di provare a colmare quel gap davanti e poi sperare in un qualcosa di più è un obiettivo comunque da perseguire fino in fondo anche perché se guardiamo la classifica davvero non ha senso guardarsi indietro perché c'è una voragine di tanti punti no anche perché guardarsi indietro sarebbe un limite nella propria ambizione e quindi quando si parla di ragazzi che magari fra un anno o due possono essere la base di una primavera e quindi di quella squadra che dovrebbe rappresentare il serbatoio per la prima squadra è importante che si comincia ad alimentare il desiderio dell'ambizione di voler essere sempre meglio non solo rispetto all'avversario ma soprattutto verso se stessi un desiderio quindi di migliorarsi ogni giorno di più il prossimo turno non riserverà impegni proibitivi per le dirette concorrenti del Udinese infatti il Bologna sarà impegnato a Venezia che occupa gli ultimi posti della classifica così come il Chievo che andrà a giocare a Cittadella mentre il Cesena se la vedrà in casa con la Lazio l'Udinese invece sarà chiamata a un impegno più gravoso contro l'Inter però Gianluca all'andata ricordiamo questa straordinaria impresa dei nostri bianconeri che hanno battuto in sequenza prima l'Inter e poi il Milan questo è il punto di forza con il quale si affronteranno le due prossime partite perché dal tuo lato hai l'occhio rivolto alla classifica alla conoscenza del campionato dove sai che queste squadre sono superiori a te ma dall'altro lato hai anche la capacità di ricordarti cosa hai fatto nel giro di andata e quindi il desiderio di poter rappresentare tra virgolette la bestia nera di queste due squadre ma se riuscirai a replicare i risultati proprio del giro di andata ecco che allora potrebbe assumere quello che dicevamo prima un risultato diverso anche la classifica stessa ma soprattutto le motivazioni nella squadra e un desiderio magari di essere superiori a quello che sei ma rispetto dei risultati ottenuti sul campo per quanto riguarda invece l'Under 16 e l'Under 15 anche qua due pareggi in entrambi i casi contro la Spal anche se ottenuti in maniera molto molto diversa prima di andare ad analizzare anche queste partite ascoltiamo le voci dei protagonisti finalmente è stata una partita molto impegnativa abbiamo avuto tante occasioni per poter andare subito in vantaggio ma non siamo riusciti a concretizzare però poi alla fine con forza di volontà con tutta la squadra siamo riusciti a portare a fare il gol e poi il risultato finale non ce l'aspettavamo perché era una partita fondamentale che era soprattutto da vincere a fare quei tre punti che ci permettevano di salire su in classifica e adesso domenica abbiamo un'altra bella sfida da fare a Verona esatto avete il Chievo poi la sosta e poi un finale di stagione impegnativo anche con avversari del calibro dell'Atalanta e soprattutto lo scontro diretto con il Cagliari a quale anche il mister ci tiene tantissimo perché uno scontro diretto chiave per i playoff certamente come è successo nel genio di andata non siamo riusciti a portare a casa i tre punti ma adesso questo deve essere un altro obiettivo molto importante per noi perché sicuramente queste partite che mancano sono fondamentali per la stagione e noi cercheremo sempre di portare al meglio gli insegnamenti quello che ci ha detto il mister cercando sempre di fare ottime prestazioni e portare a casa i tre punti che sono fondamentali per andare alla fase finale del campionato è stata una partita abbastanza combattuta comunque difficile anche perché erano degli avversari abbastanza forti e dobbiamo ricominciare da questo pareggio per cominciare a fare un po' di punti per il nostro obiettivo playoff Dopo la vittoria con Verona una sconfitta e tre pareggi un momento quindi di difficoltà però se non altro siete riusciti lo stesso a muovere la classifica Sì comunque non è un grande momento ma anche da questi momenti impariamo per il futuro anche per i prossimi anni Siamo in lotta perché comunque anche gli avversari non hanno fatto grandi risultati però adesso dobbiamo cercare di fare più punti possibile visto che mancano poche partite e i playoff sono vicini Gianluca delle due l'Under 16 probabilmente è quella che ha convinto un po' di più soprattutto dal punto di vista offensivo una supremazia sul campo anche se poi lasciare i conti aperti così un gol di vantaggio può sempre lasciare aperti rischi e poi la Spal infatti ne ha approfittato per pareggiare è una squadra l'Under 16 che ha dei principi di gioco già molto ben saldi nella testa dei giocatori però dall'altra parte è anche vero che dopo la vittoria particolare sotto il profilo del risultato molto bella contro il Milan sono seguiti due pareggi con squadre inferiori per classifica per forza anche delle squadre stesse con Cittadella e Spal che un po' hanno rallentato quello che poteva essere ad oggi magari un consolidamento anche del quarto posto in classifica proprio per i valori in campo che si andavano ad affrontare contro due squadre inferiori ecco questo forse è il rammarico principale nella squadra dei mister De Biagio sicuramente lo staff sa che queste possono essere state delle occasioni perse che non ti verranno che non riuscirai a recuperare ma che potrai cercare di dimenticare dando seguito a questi risultati proprio con delle vittorie che dovranno tornare a essere convincenti non perché queste prestazioni non lo siano state ma perché poi nel risultato finale si tratta comunque di due pari che hanno un po' bloccato quello che poteva essere l'onda emotiva di un grande risultato di una grande prestazione ma di tanti gol fatti contro il Milan un discorso un po' inverso invece per quanto riguarda l'Under 15 un po' di difficoltà a costruire le trame di gioco contro un'avversaria non di primo ordine però il punto di forza invece riguarda l'aspetto difensivo più che un aspetto di forza in questa partita è stato un aspetto di debolezza perché probabilmente le linee erano spesso molto spezzata nella loro dinamica di squadra di fronte c'era una squadra come la SPAL inferiore tecnicamente ma ben organizzata hanno un po' subito questa migliore organizzazione nella partita specifica della SPAL un esempio un particolare su tutti che mi ha accolto l'attenzione era la modalità con cui la squadra di mister Zompicchiati andava a difendere le situazioni di ripartenza della SPAL troppo spesso i due centrali erano lasciati da soli e quindi c'era questa idea giusta correttissima del marca copri un giocatore usciva sull'attaccante della SPAL l'altro difensore invece andava a coprire però con troppa distanza rispetto al proprio compagno questo consentiva alla SPAL magari di superare la prima marcatura di affrontare l'uno contro uno e poi spesso l'uscita sul pallone era in ritardo andando a costringere o a causare falli o a costringere il giocatore a prendere delle munizioni ecco questo è un aspetto sul quale la squadra dovrà naturalmente migliorare perché il rischio poi di lasciare sempre l'uno contro uno via centrale senza l'ausilio dei terzini che in questa partita erano molto distanti rispetto ai due capitani della difesa che sono tendenzialmente due difensori centrali ecco questo ha rappresentato in questa partita un esempio un segnale di debolezza sul quale probabilmente bisognerà lavorare più che sull'aspetto offensivo sul quale ci si può sempre affidare anche se bisogna migliorare su dei giocatori molto interessanti tecnicamente e tatticamente come Damiani e Pinzi guardando la partita ti sei focalizzato anche sull'allenatore su come Zompicchiatti dalla panchina incitava i suoi giocatori una cosa in particolare ti ha colpito mi ha colpito molto come il mister nel primo tempo soprattutto richiamasse all'attenzione e soprattutto utilizzasse la parola del duello bisogna capire sotto quale aspetto la utilizzava se sotto il profilo di ricordare ai giocatori quale fosse l'avversario di riferimento e quindi concentrarsi sulla posizione sul movimento da intraprendere nel momento in cui perdevano il possesso di palla oppure se semplicemente incitandoli con questa parola a vincere proprio il duello fisico che si andava al contrasto sul quale abbiamo sottolineato come la squadra aveva dimostrato qualche segnale di debolezza è stato un esempio una parola caratteristica che mi ha colto l'attenzione nella prima frazione di Gio allora glielo chiederemo magari per le prossime puntate vediamo ora però i risultati delle altre partite del campionato under 16 con il Milan per quanto riguarda sempre le dirette avversari nella lotta ai playoff dell'Udinese il Milan che passa a Venezia 2 a 1 poi c'è stato il 2 a 2 nello scontro diretto tra Bologna e Cagliari il Cesena invece che batte il Chievo 2 a 0 e si porta a meno 4 dall'Udinese che come vediamo qua in classifica è sesta appaiata al Bologna con i rossoneri che invece effettuano il controsorpasso dopo essere state sopravanzati nel 5 a 4 di due settimane fa e Milan che si affianca quindi al Cagliari in quarta posizione per quanto riguarda invece la squadra under 15 ecco qua gli altri risultati prova di forza del Cesena che strapazza a 6 a 0 i Clivensi Bologna e Cagliari anche in questo caso pareggiano però per 1 a 1 interessante anche ai piani alti della classifica lo scontro diretto tra Atalanta e Inter che vede gli Orobici prevalere e guadagnarsi quindi la vetta della classifica in solitaria l'Udinese di Zompicchiatti si mantiene quindi dentro la zona playoff pur perdendo una posizione il pareggio con la Spal fa recriminare un pochettino di più gli under 16 come abbiamo visto che non hanno saputo approfittare del pari tra Bologna e Cagliari sicuramente tra le due partite sì anche per quella che è stata l'espressione di campo della partita invece degli under 15 un po' sottotono rispetto a quello a cui siamo siamo abituati ma è anche vero che a questa età poi bisogna dedicare un pensiero al fatto che comunque i giocatori prima che la tattica ancora abbiano nella propria mentalità nel modo di interpretare la partita una grande fonte di istinto per gli under 16 è vero un po' più il ramarico sale però questo deve essere semplicemente un diciamo un ingrediente per migliorarsi e non rammaricarsi troppo di quello che non è stato in questi due pareggi con due squadre inferiori ma come dicevamo prima cercare di cogliere gli aspetti positivi pensare comunque che si è dato continuità di risultato per poi cercare di andare nella prossima partita andare tornare a strappare quei tre punti che possono consolidare il tuo posto e sperare anche in qualcosa in più ci saranno delle partite interessanti anche nel prossimo turno l'ultimo prima della pausa Pasquale l'Udinese andrà a Verona a giocarsela con il Chievo un po' in una sorta di derby poi avremo Milan-Brescia e un altro scontro diretto in ottica playoff tra Cagliari e Cesena importantissimo soprattutto per gli under 15 per il Bologna invece dura prova in entrambi i casi contro l'Atalanta Gianluca in una fase simile del campionato quando mancano poche partite e ti giochi un obiettivo così importante come si motiva una squadra così giovane? semplicemente facendogli credere all'obiettivo in cui si sta cercando di raggiungere perché sempre bisogna appunto ricordare l'età dei ragazzi in cui prevale ancora un desiderio di voler essere migliori un desiderio di confronto rispetto a compagni avversari in cui si cerca di avere le basi per poter dire sono meglio di te che è diciamo una fonte di supponenza ma è anche un aspetto fondamentale dell'adolescenza una sicurezza in te che ti costruisci in questi in questi momenti in queste fasi d'età e naturalmente avere un obiettivo lottare per un obiettivo che ti possa far sentire in qualche modo tra virgolette importante fondamentale cercando però di tenere sempre quella base d'umiltà che ti ha portato fino ad ora ad essere ad un certo livello di classifica per il quale tu puoi lottare per qualcosa di più alto perché altrimenti sai bene ed è questo l'aspetto fondamentale in cui i vari allenatori probabilmente dovranno lavorare che se rinuncerai a questo ingrediente dell'umiltà a scapito di una supponenza ecco che probabilmente questa è la ricetta giusta per perdere l'obiettivo quella quella perfetta per poterlo raggiungere non la si conosce però come abbiamo detto quella per perdere la si conosce benissimo siamo praticamente in chiusura velocemente un aggiornamento sui campionati giovanissimi con i regionali 2004 che vanno a vincere in casa della Gemonese per 4-1 esagerano come spesso è accaduto quest'anno gli sperimentali 2005 17-0 con metà azzurra ma sono categorie insomma in fase di costruzione dove queste cose possono succedere a me non resta che salutarvi ringraziamo Gianluca Lena per la presenza grazie a te Lorenzo dell'ospitalità come sempre facciamo gli auguri anche a Marco Canciani che oggi diventa Marco Ren compie 30 anni presto lo raggiungeremo anche noi tra un paio d'anni aspettiamo aspettiamo ancora un po' allora grazie anche a tutti voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata sempre in compagnia di Udnews TV un buon proseguimento My life, my love, my time, they came from